Abbiamo intenzione di fare diversi corsi, uno è un laboratorio teatrale che è aperto a tutti, un altro è proprio un corso di teatro per ragazzi dai 6 ai 12 anni e si terranno tutti e due dal 18 al 29 luglio. Il costo è di 50 euro l'intero corso, sono 6 lezioni e per i soci di Kairos 30 euro e naturalmente per i figli dei soci. Poi c'è un corso di inglese, English to Travel, un corso per dare i primi riudimenti con i quali chi vuole viaggiare e possa in qualche modo cavarsela nel paese straniero. È una novità che speriamo di iniziare adesso ma di proseguire anche arricchendo questo Summer School con altri corsi anche più interessanti. Il primo corso a Stampante 3D ormai l'abbiamo già fatto quest'anno, ha avuto successo ed è un corso che si rivolge anche ai professionisti oltre che agli studenti e ai ragazzi che vogliono acquisire competenze digitali. Il corso che facciamo parte da un'idea, dalla creatività fino ad arrivare alla realizzazione dell'oggetto, quello che si chiama una prototipazione. Il secondo corso, quello di elettronica Arduino, è un insieme di elettronica e di software italiano, ormai distribuito in tutto il mondo, che permette di fare elettronica fai da te. Cioè anche chi non conosce bene elettronica e elettrotecnica riesce a creare degli impianti. L'ultimo, quello che ci preme di più, è l'ICT per la terza età, cioè le tecnologie digitali innovative, computer, smartphone, tablet e poi tutti i servizi di internet. Il corso prevede l'accompagnamento dalle persone più adulte con un giovane. Chiediamo che sia un nipotino o un figlio, che sono nativi digitali, e quindi su questo settore sono molto bravi. L'altra cosa che chiediamo è che pensionati o gli adulti insegnano i ragazzi a iniziare a lausare le mani per il mestiere, per imparare l'idraulico, l'elettricista, il falegname e tanti altri, che per loro potrebbe essere anche un gioco.